Palazzo Madama ha cercato di arricchire questa mostra con una sezione invece ideata dal museo e che attinge alle nostre collezioni numismatiche. Il museo infatti ha la fortuna di possedere un nucleo molto importante di monete bizantine, sono 1290, che sono entrate in museo negli anni 30 come legato di Pietro Antonio Gariazzo, un ingegnere biellese che alla fine della sua carriera diventò conservatore onorario delle collezioni numismatiche di Palazzo Madama e lavorò a fianco di Vittorio Viale schedando le monete che il museo civico già possedeva e poi donando le proprie collezioni al museo. Abbiamo selezionato una settantina di monete bizantine che vanno dalla tarda antichità, in particolare quindi dall'epoca dell'imperatore Eraclio fino al XV secolo e dato che si tratta di oggetti raffinatissimi, sono tutte monete d'oro con il ritratto dell'imperatore, ma oggetti magari un po' difficili, li abbiamo ordinate su una linea del tempo, quindi la grafica delle vetrine permette di identificare immediatamente l'imperatore, ogni moneta è descritta dritto e rovescio come iconografia e il nome dell'imperatore e la cronologia, in maniera che anche un visitatore occidentale possa orientarsi di fronte a questi personaggi storici che sicuramente non conosce.